ma posso vedere la televisione, non passare di là ma posso vedere questo cartone, per favore buono, buono, buono buono, buono ma perché mi senti questo stupido cartone? è meglio il cartone in treni? non, non, non non, 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 non ok, questo è il cartone in treni buono, buono, buono buono, buono, buono buono, buono